Nel turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata d'eccellenza all'antistadio Valle Anzuca di Francavilla, Torrese batte Villa 2015 con il risultato di 1-4. Vittoria ampia e meritata per gli uomini di Cristofari, che capitalizzano al meglio gli errori biancorossi e nella ripresa legittimano il largo successo. Con le immagini di Alessio Evangelista passiamo agli likes della partita. Pronti via Edilville mette la faccia avanti, tacchi per Natale, che calcia debole e centrale. Al primo affondo però la Torrese passa in vantaggio. Al settimo i padroni di casa perdono ingenuamente palla, ne approfitta Mastrilli che serve un cioccolatino per Gentile, il quale da due passi sigla lo 0-1. Trascorre appena un minuto e Gentile, sulle ali dell'entusiasmo, si invola verso la porta avversaria ma uno strepitoso falso gli dice di no. Gli uomini di Vitale non riescono a reagire ed i giallorossi prendono il controllo del gioco. Al ventitresimo entra in area Gentile, Scaltro a cadere al primo contatto con Dipentima ed a conquistarsi il penalty. Santi Rocco si presenta sul dischetto, incrocia ma colpisce la base del palo. Poco male, perché al trentaduesimo la Torrese raddoppia. Ingenuità clamorosa di falso, che regala il pallone a Santi Rocco, il quale non si lascia pregare due volte e da rapace d'aria sigla lo 0-2. Questo scuote un po' il Villa, che al quarantatresimo dimezza lo svantaggio. Bella azione tutta di prima avviata da Dincecco. Tacchi rifinisce per Natale, che d'esterno infila Camaioni. Nel primo minuto di recupero della prima farazione, i locali sfiorano anche il pareggio. Gian Cristoforo di controbalzo accarezza il palo. A rientro dagli spogliatoi, la partita resta bloccata. All'undicesimo cross della sinistra per Antichi, che di testa spedisce alto. Paravati dall'altra parte, su punizione testa i riflessi di Camaioni, che controlla sicuro. Al ventiquattresimo, la Torrese cale il tris e chiude la partita. Gentile si mette in proprio e rifinisce la perfezione per l'innentrato Festa, che la controlla bene e finalizza col mirino. 1-3. Trascorrono 10 minuti ed i Terramani dilagano con il quarto gol. Euro-goal di Gentile dai 25 metri. Apre il piattone e toglie le ragnatele dall'incrocio. Voilà! Nel finale non succede più nulla e dopo 5 minuti di recupero, l'arbitro pone fine alla contesa. Alla Torrese tre punti d'oro nel cammino d'alta quota. Al Villa una sconfitta che fa riflettere e che deve escuotere per l'immediato futuro. Purtroppo il primo tempo, nonostante che abbiamo fatto una grande partita giocando la maggior parte del tempo noi, avendo diverse opportunità, la palla ce l'avevamo sempre noi, abbiamo fatto due errori e in questi due errori siamo stati puniti. Purtroppo ci capita troppo spesso che a ogni piccolo errore prendiamo gol. Siamo andati due gol sotto, poi abbiamo avuto la forza di reagire, siamo andati sul 2-1 e ovviamente dall'inizio del campionato che andiamo sempre sotto e i ragazzi hanno sempre avuto una grande reazione provando a recuperare la partita. Però a volte, sai, capita che a livello mentale provi a vincerla però ti scopri un po' e prendi il terzo gol. Sì, al di là del largo risultato, insomma al primo tempo dopo il 2-0 loro hanno cambiato atteggiamento tattico, noi non siamo stati bravi a capirlo sin da subito, abbiamo un pochino staccato la spina e c'è stato il loro gol ma al di là del gol c'è stato un ritorno importante da parte del Villa, ci siamo rimessi a posto nell'intervallo, abbiamo messo a posto un po' alcuni accorgimenti e poi siamo rientrati con il piglio giusto, abbiamo trovato il gol del 3-1, il 4-1, poi il secondo tempo insomma abbiamo chiuso in discesa, anche se ripeto la partita non è stata assolutamente facile, lo sapevamo, però noi venivamo con una rabbia importante di domenica dove avevamo fatto una grandissima prestazione e non avevamo raccolto punti, dovevamo proseguire la marcia quindi abbiamo preso tre punti fondamentali e domenica testa all'Aquila. La rabbia che ha detto lei forse è la rabbia anche di Gentile, la squadra non può prescindere dal suo numero 10? Sì, diciamo che domenica non l'avevo fatto partire dall'inizio per scelta tecnica, ha risposto come meglio non poteva, sia domenica a mezz'ora alla fine che oggi, per noi è un giocatore importante, lui lo sa, il gruppo lo sa, abbiamo bisogno di queste prestazioni, deve essere un pochino più costante, mi auguro insomma che da qui in poi possa essere un giocatore determinante.